Quali sono le lesioni cutanee? Una lesione cutanea è una zona di pelle che contrasta con il tessuto circostante a causa delle differenze di consistenza, spessore e pigmento. Derivato dalla radice latina cutis, che significa pelle, queste lesioni sono superficiali e possono essere ruvide, lisce, simili alla pelle o sollevate. Sono spesso caratterizzati come un segnale di avvertimento visivo per il virus dell'immunodeficienza umana, gli umani immunodeficienti virus, poiché appaiono come uno dei suoi primi sintomi. Sono anche spesso prove di cancro della pelle e infezioni della pelle come tigna, rosa cea e le chemplanus. Le lesioni cutanee, tuttavia, possono apparire innocentemente sui neonati come semplici segni di nascita. Esistono tipi specifici di lesioni cutanee che si distinguono per la loro composizione. Alcune lesioni sono fatte di lipoproteine e sono indicate come corpi di asteroidi. Fosfato, ferro e carbonato di calcio costituiscono un'altra serie di lesioni denominate corpi di Schauman. I corpi residui sono composti da granuli di lipomucoproteine. Le posizioni di queste lesioni possono estendersi su tutto il corpo, specialmente quando sono il risultato di malattie sistemiche come il lupus. La faccia, il cuoio capelluto, la schiena e le braccia sono in genere aree in cui si formano le lesioni, possono verificarsi in multipli o come una singola lesione che cresce e si diffonde. Alcune persone soffrono di lesioni ai piedi e alle mani. La presenza di lesioni sul cuoio capelluto può spesso portare a perdita di capelli localizzata. Mycobacterium tuberculosis può causare lesioni sul pene, sebbene siano rari. I tumori del cancro possono iniziare come lesioni cutanee e vengono spesso diagnosticati erroneamente come semplici infezioni della pelle. Rapporti medici mostrano che alcuni pazienti che sospettavano che le loro lesioni fossero tigna scoprirono di avere un linfoma dopo che le lesioni furono sottoposte a biopsia da parte dei medici. I medici dicono che il trattamento precoce delle lesioni maligne può avere successo e impedire la diffusione del cancro nei linfonodi in tutto il corpo. Lesioni da linfoma nonogchina sono il tipo più comunemente visto su vittime di virus dell'immunodeficienza umana e pazienti con malattia da immunodeficienza acquisita, sindrome da immunodeficienza acquisita. Altre immunodeficienze umane e le lesioni correlate al virus sono causate da herpes e tubercolosi. Questi possono essere trattati con farmaci antivirali. La sarcoidosi, una malattia che colpisce i polmoni, gli occhi e linfonodi, può manifestarsi come lesioni cutanee in almeno il 20% delle persone affette dalla malattia. Spesso queste lesioni violacee sono gli unici effetti precoci di questa malattia che alla fine si diffonde oltre la pelle ai tessuti del corpo. Il naso e il cuoio capelluto sono le aree più comuni in cui trovare lesioni legate alla sarcoidosi. I trattamenti per le lesioni cutanee comprendono antibiotici, metotrexato e griseofulvine per via orale. La radiazione è un'opzione alternativa. Alcune lesioni non possono essere curate, ma possono essere mitigate con farmaci steroidei applicati localmente. I dermatologi potrebbero anche impiegare retinoidi immunosoppressivi per arrestare le lesioni. Occasionalmente, la presenza di una lesione sfigurante può essere rimossa chirurgicamente, una volta rimosse o polimerizzate le lesioni cutanee, si possono lasciare cavità o cicatrici.